ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo nuovo video di ghost of tsushima vi mostrerò la posizione del venditore di tinture bianche e tinture nere partiamo dalle tinture nere le tinture nere potete ottenerle a toyotama quindi nella seconda regione praticamente qui in prossimità del villaggio di kawamata e a sud del villaggio di urashima vedete praticamente tra le canne di bambù qui troverete questa grotta dove al suo interno vi è il venditore di tinture nere quindi potete tingere di nero il vostro vestito le armi e così via dicendo per quanto riguarda invece il venditore di tinture bianche si trova a izuara quindi la prima regione ed è collocato su una montagna sperduta lo trovate praticamente qui vicino le cascate del lupacchiotto o i colli di cascine o la foresta di cascine o il valico del viandante lo trovate praticamente qui vedete una volta che avete sbloccato questo venditore potete tingere i vostri abiti e le armi di colore bianco vedete si trova praticamente sulla cima della montagna mentre il venditore di tinture nere si trova in una grotta questo si trova sulla cima della montagna quindi ricapitolando il venditore di tinture bianche si trova nella prima regione a izuara qui praticamente vedete mentre il venditore di tinture nere si trova a toyotama qui praticamente vedete dove ci sono questi villaggi quindi quando appena c'è già c'è già 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 Grazie.